La chiesa di San Nicolò non è riuscita a contenere tutta la gente che questa mattina ha tenuto a dare l'ultimo saluto a Letra Friselle, la bimba di appena 17 mesi del Lido di Venezia, morta lo scorso primo giugno dopo aver accidentalmente ingerito un tappo di plastica. Tutta la comunità si è voluta stringere ai genitori della piccola e alla famiglia. La messa funebre è stata presieduta dal parroco di San Nicolò, Don Paolo Ferrazzo, e concelebrata da Don Peter. Ciao Babi, sei entrata come un uragano nelle nostre vite, inaspettata e piena di energie, così simile fisicamente a tuo papà e così vivace, allegra e incontenibile come la tua mamma. Sei la nostra stella cometa e parlo al presente perché le stelle brillano sempre. E dove le parole umane non arrivano ci può essere la fede. Quando la piccola Letra ha cominciato a esistere nel grembo della sua mamma, per l'amore di questi due genitori nata da questo amore, le è stata data un'anima, immortale, e questo avviene da Dio. E quindi la vita di Letra, come quella di tutti noi, si compie in Dio. Al termine della messa, tanti palloncini colorati con il nome di Letra sono volati in cielo. Le offerte raccolte durante il funerale andranno a sostenere un'opera concreta di carità. Un gruppo silenzioso di persone ha poi raggiunto a piedi il viale d'ingresso alla sede del punto di primo intervento dell'ex ospedale Romare. Qui sono stati attaccati ad un albero, alcuni nastrini bianchi, con un pensiero e una dedica per Letra. Grazie a tutti.